Si tira un sospiro di sollievo perché sui 320 test rapidi effettuati sui pazienti e sul personale della clinica Maugeri di Telese Terme solo uno, come fa sapere l'asla di Benevento, ha dato esito positivo. Si tratta di un operatore della struttura a cui è stato eseguito il tampone previsto in caso di positività del test di cui si attendono ora le risultanze. Sono invece risultati tutti negativi i 50 tamponi effettuati nei giorni scorsi su altrettante persone ritenute più a rischio per il contatto diretto con la paziente affetta da Covid-19 transitata all'istituto Maugeri e deceduta presso l'azienda ospedaliera Sampio. Comunicata anche la negatività di una parte dei tamponi effettuati a scopo precauzionale su tutti i dipendenti e sui giovani detenuti del carcere minorile di Airola a seguito del ricovero presso l'azienda ospedaliera Sampio di un agente di polizia penitenziaria, già risultato negativo ad un primo tampone. Sempre per le prossime ore è attesa la trasmissione all'asla da parte dei laboratori di microbiologia e virologia di riferimento dell'esito dei rimanenti tamponi eseguiti nel carcere e non ancora processati. Inoltre l'azienda ospedaliera Sampio ha processato 32 tamponi dei quali 4 sono risultati positivi. Di questi uno rappresenta un nuovo caso in provincia di Benevento e 3 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Dei 32 tamponi processati 17 sono relativi al personale dipendente dell'azienda. Tutti risultati negativi. E intanto il sindaco di Benevento stria qualche irresponsabile che gira un po' troppo per la città. Cari concittadini e cari concittadini e soprattutto cari bambini della nostra splendida città, volevo dirvi alcune cose molto semplici. La prima ho chiamato il prefetto, il questore, il comandante della polizia municipale perché svolgessero con maggiore pressione questa disinvolta manifestazione a parte di alcune di girare a zonzo per la città, di utilizzare macchine. Questo non va bene, in un momento in cui bisogna essere attenti, siamo nella coda e bisogna evitare che ci arrivino momenti drammatici che stiamo tentando di evitare in tutti quanti i modi. Quindi questo è il mio appello, a conservare la calma, la serenità, di stare in casa, di giocare tra i genitori e i bambini. Continuate voi bambini a fare i disegni che mi mandate, io parlo con molti di loro che mi scrivono, mi mandano messaggini, rispondo a loro volentieri. L'altro aspetto che volevo dire alla popolazione di Benevento, ieri c'è stata una polemica nella Lombardia, tra sette sindaci su dodici della Lombardia, tra cui Milano, Brescia, Bergamo, cioè le città dove maggiormente c'è stata questa profondità e immersione del coronavirus e hanno detto in polemica il governatore Fontana quando ci mandi le mascherine che non ci sono, quando ci mandi i pretamponi, quelli che vengono utilizzati in maniera un po' con la prelievo di sangue, perché l'unico modo come stanno facendo dal loro punto di vista molto bene l'Emilia Romagna e il Veneto, perché mancano? Ebbene, voglio dire alla popolazione di Benevento, io ho fatto distribuire 20.000 mascherine nella città, stanno distribuendo 20.000 mascherine in città, cosa che neppure nelle zone rosse di maggior contagio questo si è verificato, voglio dire però di non essere avari, c'è chi già ha avuto la mascherina non sa proprio di quella dell'atto, perché dovunque non riusciamo ad arrivare evidentemente, andiamo avanti soprattutto consegnandola a quelli che hanno maggior difficoltà, maggior bisogno, lo stanno facendo con molto apprezzamento a parte di tutti, le organizzazioni di volontariato che stanno girando dovunque e devo dire grazie a queste persone, a questi ragazzi che tutti svolgono un lavoro eccezionale assieme ai miei collaboratori. E poi l'altra cosa è quello dei 2.000 tamponi, pretamponi con prelievo del sangue ordinato, anche quella è una cosa che di là in Lombardia non c'è, quindi a volte non ci lamentiamo. Io sto tentato di mantenere stretta vigilanza sulla città, sto tentato di fare cosa che nessuna città fa, perché quando mi dicevano mai i tamponi, il comune vicino, ma il comune vicino sarà di 3.000 o 2.000 abitanti, bastano 2.300 per famiglia, lo stesso le mascherine e non c'è problema. Credo che siamo andati a valutare tra le poche città, anche in Italia e soprattutto nel mezzogiorno, che riusciamo a fare queste cose.